A bel passo si sono conclusi gli eventi organizzati da diverse associazioni cittadine in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci. Falcone non va in prescrizione. Questo è il nome della manifestazione. Ricco e variegato il programma di appuntamenti messo a punto dalle associazioni Freedom, Pensiero Libero, Verde Basico, For Life e dalla Proloco del Comune Etneo. Dal 16 al 22 maggio in tutto il paese si è tenuta la settimana della legalità, durante la quale tutti gli esercenti belpassesi hanno esposto la locandina commemorativa di Falcone non va in prescrizione. Sabato 21 maggio durante l'intera giornata si è poi tenuto un contest artistico pittorico all'Arena Caudullo, durante il quale è stato realizzato un murale dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Murale che è stato inaugurato il giorno dopo, domenica 22 maggio, alla Villa Comunale e che tra qualche giorno verrà spostato e messo in mostra in maniera permanente al Parco Urbano. Alla realizzazione hanno contribuito i componenti delle diverse associazioni coinvolte. C'era pensato di fare qualcosa di diverso per questi trent'anni della strage di Capaci, invece di fare sempre la solita marcia, perché ormai sinceramente hanno perso un po' ogni significato di marcia. Abbiamo pensato di fare una cosa che coinvolge tutti i cittadini del bel passo e abbiamo pensato a questo street art, così per essere anche più giovanile, più innovativa e molte più persone sono invogliate a partecipare. Come avete visto il tema è Falcone e Borsellino per questo trent'anni, abbiamo deciso comunque di mettere, di contrapporre alcuni colori, un po' diciamo questo giagli, arancio, verde, un po' più sgargiante. Va, una tonalità abbastanza vive, anche perché deve essere vivo il ricordo di questi due personaggi per questo. Ieri, durante la giornata del trentesimo anniversario della strage in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, al Parco Urbano è stata posta una targa in memoria dei caduti di tutte le mafie. Durante la cerimonia alcuni rappresentanti del gruppo dell'azione cattolica della parrocchia di Cristo Re hanno anche donato un mazzo di trenta rose rosse, una per ogni anno trascorso dal 1992, benedette durante le celebrazioni dedicate a Santa Rita. Abbiamo avuto diverse iniziative, in una settimana della legalità, sia con le scuole, sia con le associazioni che ringrazio, soprattutto per quel bellissimo murales che hanno fatto e esposto alla villa comunale. Oggi andiamo ad esporre questa nuova lapide per non perdere la memoria, perdere la memoria è la cosa più brutta che può succedere all'umanità, quindi ricordiamo chi ha dato la vita perché oggi avessimo la società che abbiamo e cercheremo di costruire una società nuova con nuovi principi e nuovi valori. La targa per noi è stato un simbolo di legame, di collante tra le varie associazioni che hanno aderito a questa iniziativa il murale che abbiamo fatto, grazie all'aiuto anche di alcuni artisti belpassesi. Quindi per noi è un modo di ricordare sempre, perché è giusto farlo tramite qualsiasi tipo di arte, ricordare quello che è successo, quindi delle persone che hanno veramente dato la vita per la lotta contro la mafia. Grazie. Grazie.